eccoci qua sono tornata in diretta purtroppo per problemi tecnici mi si è interrotta la connessione ma adesso torniamo noi allora mentre si è interrotta la linea mentre attaccavo la testa cucivo la testa al collo continuiamo prendendo un po di collo e un po tessuto della sfera continuiamo a cucire tutto insieme così ci assicuriamo la la nostra testa al suo posto ecco vedete adesso sta ferma quindi io sono arrivata al termine fatto tutto il giro se vedete che vi serve ancora ne rifate ancora qualche passaggio se no possiamo finire qua per fare questo semplicemente chiudiamo con qualche modo e usciamo da qualche parte tipo in testa così il modo non si scioglie benissimo adesso si adesso si che la nostra testa nessuno la smuove da qui ottimo mettiamo l'indossiamo il copritesta adesso piano piano cercando di tirarlo in modo che non fa le grinze sul collo e tiriamo verso di noi allora vedo che il mio si è girato un po quindi anche qua fate attenzione che le cuciture restino sui lati quindi cuciture in mano e tiriamo adesso sì che li vedo che vanno dritte ecco qua non vi preoccupate di queste piccole due cuciture che sembrano visibili in realtà poi ci sono i capelli c'è il trucco non si vede più niente comunque le bambole artigianale un po di lavorazione se si vede non fa niente si vede che fate a mano ecco qua abbiamo ricoperto la testa adesso ovviamente dobbiamo chiudere qua sopra e per fare questo adesso vediamo insieme sto cercando un un filo bianco normale fatelo doppio per favore controlliamo prima di tutto che non ci sia non deve essere troppo tessuto non è che adesso facciamo la filzettina intorno e la riempiamo no no quello che dobbiamo fare è avvicinare prima le due estremità dove ci sono le cuciture ecco le avviciniamo e tagliamo l'eccesso proprio letteralmente lo tagliamo davanti ancora non mi sto azzardando a tagliarlo ma qua si ok adesso con l'ago e filo vado a tirarmi lì una verso l'altra questi due estremità passo aggancio da una parte la cucitura aggancio dall'altra e le avvicino tirando lì così ok faccio un altro passaggio scusate devo farvi vedere a posso piegarle le gambe che bello se non sapevo come metterla aggancio un'altra volta di qua e ripasso ecco così un paio di volte ci assicuriamo la cucitura adesso se volete per sicurezza possiamo fare una specie di nodo fissiamo questa parte proseguiamo lavorare su quell'altra qua come vedete tutto dritto già tutto preciso ok mi interessa adesso questi parti davanti anche qua allarghiamo per bene così qua e qua allarghiamo proprio troviamo due punti d'incontro e vediamo quanto è di più se di più lo tagliamo senza pietà ok e andiamo a trovare il centro da una parte lo agganciamo a croce praticamente lavoriamo e dall'altra parte lo stesso vedete quello che faccio adesso le avvicino queste orecchie che mi fa il tessuto per adesso li lascio così ok non vi devono dar fastidio in nessun modo lasciatele così stare faccio altri due tre passaggi per assicurarmi la posizione controllate che qua non vi fa come dire le sporgenze deve rimanere piatto per questo abbiamo tagliato tutto l'eccesso di tessuto adesso faccio due modi e fermo tutto ok diciamo che abbiamo unito ok queste due parti ora mettiamo la bambola davanti a noi vediamo qua con questi ali cosa possiamo fare allora io direi di allargare di cercare di sistemare questi davanti ok tirandole su ovviamente prima tagliamo un po' non dovete avere tanto tessuto al centro questo mi sembra chiaro tutto l'eccesso lo tagliate senza pietà dietro potete già tagliare anche di più io li sto tagliando praticamente a zero davanti invece mi piacerebbe tirare un po' per vedere se posso far avvicinare questi pieghi un po' più su adesso va bene perché è sopra la linea della fronte posso lasciare anche così però tutte queste parti che sono rimasti sporgenti io li taglio comunque letteralmente tagliamo tutto così vedete importante che qua davanti le vostre pieghe non si avvicinano troppo al centro del viso perché qui adesso ci sarà l'attaccatura dei capelli tutto andrà sotto allora per scrupolo per esempio se vogliamo essere tanto precisine voi adesso non ce l'avete però io vi dico che potete farlo anche con un altro tessuto volendo per esempio bianco se ce l'avete io in questo caso posso usare semplice cotone come si semplice malina come la testa vi voglio far vedere cosa si può fare per migliorare per migliorare la situazione ho tagliato come avete visto il filo qua praticamente possiamo cucirle sopra una copertura se vogliamo proprio essere tanto esigenti prendiamo e facciamo una piccola un piccolo cerchio ve lo disegno per farvelo vedere ecco ritagliamo un cerchio così e e e e un po' più piccolo di quello che mi è uscito perché la malina si allarga mi sa che voi qua perdete qualcosa ecco facciamo così ritaglio un cerchio ritaglio un cerchio come serve a me come serve a me ripeto potete farlo anche con un tessuto bianco tanto va sotto i capelli e lo fissiamo cucendolo sopra letteralmente cucendolo sopra ripeto lo potevamo lasciare anche come era ma per farvi vedere che se siete tanto scrupolose possiamo fare anche in questo modo quindi iniziamo da davanti dove è la parte più interessante vedete è leggermente più corto perché dopo lo voglio tirare aggancio un po' anche la sfera non solo la copertura se ci riesco è leggermente più corta ok è leggermente più corta Se agganciate pure la sfera non è che va a scorrere proprio facile, perché la sfera è molto dura. Però magari un passo sì, un passo no. Grazie. Grazie. Sto cercando di seguire semplicemente il cerchio che ho disegnato. Ogni tanto prendo anche un po' di sfera della testa, ogni tanto semplicemente la copertura. Proseguiamo così finché non abbiamo... Finito. Reversi. No. No. Sto violettando la bambola mettendola nelle posizioni più strane. Sto violettando la bambola mettendola nelle posizioni più strane. Sto violettando la bambola mettendola nelle posizioni più strane. Ora prendo ancora un po' di sfera. Il crema è sicuro che non si muove. Così. Ciao Iaia! Benvenuta! Certo, recupererai sì sì. Comunque le dirette sono rimasti poche perché ci sono rimasti da fare le ali e questi penso che li faremo domani. Perché adesso finendo questa copertura faremo subito i capelli e le ali possiamo tranquillamente cucire domani. Così avrete a disposizione tutti i video. Potrete tranquillamente recuperare e fare con comodo la bambolina. Non so se questa idea è proprio meglio di quello che era prima. Giusto perché sopra resta più pulito. Però qua non è che mi piace molto. Quindi se volete lo potete fare, se no anche no. dipende come vi uscirà questa parte qua sopra. Se quando tirate la copertura vi esce una schifezza casomai fate questo cerchietto e coprite i danni. Se no potete anche non farlo. Se riuscite a fare un bel lavoro secondo me anche non serve. Ma io ve lo faccio vedere per scrupolo così potete scegliere se farlo oppure no. Diciamo che è uscita una bella testa. Dall'ultimo mi è uscito il filo ma io faccio così e tiro via. Ecco qua guardate che lavoro è uscito fuori. Adesso accendo la pistola a caldo e attaccheremo i nostri capelli. Noi abbiamo un metro e mezzo di capelli. E ci serviranno praticamente tutti per questa testolina. Ecco qua. Questi capelli sono molto molto belli, secondo me sono proprio il top, perché sono lisce, non sono crespi, già da quando li prendi in mano hanno sia un aspetto sia la consistenza, sono bellissimi, lisci e perfetti. Togliamo l'elasticchino e cominciamo ad aprirli. Ok, prima di fare questo direi di mettere un po' di pellicola qua intorno, giusto per scrupolo. L'avvolgiamo almeno la parte superiore, così nel maneggiare possiamo stare più tranquille che non la sporchiamo. Apriamo i capelli. Allora, inizierei con un metro. Wow, guardate che roba, sono bellissime. Belli, belli, belli. Le ho pesate, pesano anche più degli altri, perché sapete, quando li prendi la foto è bella, ma non è che ti dicono niente di più, li puoi capire come sono solo quando arrivano. E vi dico che a pari merito i capelli, sempre di 15 centimetri, questi pesano di più, significa che sono di più cuciti sulla fila. E questo direi che è un grande regalo, quando si fa questi lavori. Perché la bambola vi esce con la testa più folta, bei capelli. Questo esempio, la differenza, lo può notare chi ha fatto con me la bambola Caterine. Lì avevamo questi capelli qua, questi qua, sono bellissimi, ma sono pochi. Questa era, qua è un metro di capelli, ma in realtà pesavano molto meno di quest'altro, nonostante che sono lunghi. Un sorsetto. Invece questi ci assicurano un ottimo risultato. Inizieremo da dietro. Di solito iniziamo sempre da dietro. E il pinnarello però ci serve per farvi vedere dove andremo ad attaccare i capelli. partiremo da un centimetro e mezzo. La cucitura. Dalla cucitura 5 mm, un centimetro e mezzo dal collo. E facciamo questo giro. Man mano che salgo, li disegno. Ecco, l'ho disegnato storto. Perché da qui è proprio una prospettiva, ve lo dico. Vabbè, non importa. Lo capite, sì? Avete visto? Facciamo il giro così. Andiamo se la... Sì. Mi potete chiedere se c'è il verso. In realtà, sul biondo non è che ci vedo tanto bene. Direi che il ricciolo deve avere la ricciatura verso l'esterno. Cioè così, come il mio. Vedete che sale su? Ecco, lo attacchiamo in questo modo. Cioè il riccio che va in su. Quindi se la vostra pistola è calda possiamo subito partire. Prendiamo i nostri capelli e iniziamo a mettere un po' direttamente sulla cucitura. oppure il secondo metodo è metterlo direttamente sulla testa. Adesso lo facciamo in tutti e due modi così vediamo come vi è più comodo. Ok. Arrivato qua Arrivati qua tagliamo là dove abbiamo fatto il segno e la prima fila è andata. Sì? Ci siete? Adesso disegniamo la seconda. la seconda è a un centimetro di altezza dalla prima. Così. Sempre i capelli che si arricciano verso su. Adesso possiamo vedere come si fa ad attaccarli facendo la strisciolina direttamente qua. La stessa cosa come vedete non è non è che cambia chissà che. Dipende da voi come siete abituati e trovate il vostro metodo che preferite. l'eccesso di solito lo togliamo così perché la colla si sfredda subito quindi non pensate che vi scottate non c'è problema. Magari se volete aspettate un attimo però solitamente dopo uno due tre già si può metterci le mani. Ecco io ce l'ho messo ce l'ho messo. E siamo a due. Tagliamo qua. Come vedete ancora stiamo facendo solo il dietro io sono andata storta stortissima che bello non importa perché sotto non si vede però adesso prenderò meglio la misura mettendomela davanti perché qui già posso salire qua o no no questa è ancora terza fila dove non facciamo il giro completo facciamo solo dietro adesso prima la disegno poi ve la faccio vedere se no sta troppo storta non è storta è stortissima o così adesso lo porto a pari a un centimetro dal dalla da questo livello andiamo in su qui già arriviamo un po' più su cioè arriviamo quasi fino alla cucitura ok se qua non ci arrivavamo qua cominciamo già ad andare più vicino ricordatevi sempre dove sono rivolti i vostri capelli cioè sempre in su quindi se da un lato vedete che vanno di qua li girate prendete dall'altro controllate prima di attaccarli forse così si vede un po' meglio non so ok E taglio. Già abbiamo fatto ben tre strati. Il prossimo però dobbiamo arrivare già alla faccia. Alla faccia dobbiamo stare molto attenti come lavoriamo. Perché sennò i capelli vanno a destra e a sinistra e non devono fare come le pare. Quindi. Vediamo prima come vanno. Allora per esempio guardate qua. Vi faccio vedere i miei. Tanto si trova sempre qualcosa di carino. Qua già di suo si allargano. Vedete? Alla piega così. Io posizionerò proprio questa piega qua al centro. Volendo. Sennò dovete sempre seguire i capelli. Quindi. Questo era un esempio. Ma visto che non so come avete i capelli. Continuerò a farli. Come se non ho visto niente. Prima di tutto mi faccio un punto dove sarà la mia fronte. Adesso lo faccio. Poi vi faccio vedere. Ecco qua. Da qui io andrò ad attaccare i capelli in questo modo adesso. E torno qua alla faccia facendo. Adesso farò tutta una striscia. Ok? Come vedete io mi prendo il tempo. Per scegliere quali capelli devono andare davanti. Perché da questo dipende tutta l'acconciatura. Qua per esempio non ce li posso mettere. Vedete come si arriccia in avanti? Non è bello. Vediamo qua. Qua mi piaceva di più. Infatti andava preciso preciso. Esattamente. Quindi questa onda la devi fare verso esterno. E io da qui inizio. Faccio un punto. E attacco la prima. Una volta fatta la prima non mi resta che semplicemente far girare la treccia tutta intorno. Questa è la prima non mi resta che semplicemente far girare la treccia tutta intorno. Questa è la prima non mi resta che semplicemente far girare la treccia tutta intorno. Vedo che qua i capelli mi stanno girando. Perché c'è la piega. Questa cosa non deve accadere. Quindi io arrivo fino a un certo punto dove cominciano a girare le taglio. Un attimo vado avanti poi vedo. Scusate devo controllare. Mi sa che gira proprio qui. Allora da qui in poi vedete come si gira? Va all'indentro. Quindi io taglio qua. Continuerò diversamente. Queste ancora va bene. Ha proprio il suo verso. Fino alla metà va in un modo poi cambia perché essendo piegati metà fa un verso e metà non altro. Qui devo trovare adesso la stessa piega come qua. In modo che mi fa un bel riccio in su. Quindi adesso prendo i capelli e comincio a girarli. Ecco qua perfetto. Sarebbe lo stesso però l'ho rigirato. E li vado ad attaccare qui. Che mi fa... Vedete apertura già. Quindi la prendo. Prendo la misura e la taglio su misura. Questa strisciolina. Così termino il giro. Vedete come vanno? Guardate. Come già stanno facendo la piega da sole. E tutto dipende dalla scelta del verso dei capelli. Procediamo. Anche qua controllo dove vanno. Qui vanno metà e metà. Anche qua. Un po' qua, un po' là. Le vedete sì? Penso che di sì. Si vede proprio palesamente. Li taglio in due. Per non avere poi le sorprese. E comincio a posizionarli. Dove dico io? Qui assolutamente... Oh, qua sì. Guardate come è andata da sola. Che carina. Ha fatto tutto lei. Io non ho fatto niente. Si è separata e si è adagiata. Bellissimo. Quando è così mi piace. Allora, intanto... Allora, intanto... La aggancio da qualche parte. Perché c'è la piega. Mi fa un po'... Attaccata praticamente. Avete visto che io qua non ho distanziato praticamente. E ora continuo a mettere la colla e vado avanti. I miei ricci stanno seguendo il loro corso. Dovete capire che non verrà mai l'acconciatura uguale. Con capelli ricci sarà sempre diverso da una bambola all'altra. Sono fatte così. Quindi, per quanto vi posso spiegare come bisogna fare... Sempre che vi verrà un'acconciatura diversa. Qua distanzio un po'... Cioè salgo sempre un po' più alta. Sempre un centimetro. E ormai, come avete capito, basta che mettete la colla e attaccate. E guardate che bei capelli. Proprio belli. Allora, proseguo. Prendo il verso. Così per finire qua il giro. Taglio qua, che sono arrivata. Faccio il sedere così la vedete. Adesso siamo proprio al centro. E anche qua, semplicemente, dobbiamo solo continuare. Non abbiamo altro da fare. Ho un pezzo che mi dovrebbe arrivare praticamente da una parte all'altra. Misuro un po'. Dove arrivo, arrivo. Perché questo è tutto un verso. Gerati bene. Quindi io... Adesso inizierò tipo da qui davanti. Scusate, devo controllare perché qua sopra io già li metto all'incontrario. Quindi fino a un certo livello sono andata che giravano in su. Ho anche questi. Questi girano in giù. Sì. Quindi mi sa che da adesso... Perché sapete, entrare due volte nello stesso fiume è difficile. Ti riesci una volta, poi dici... Oh, facile. Solo che lo vai a rifare dopo un mese e non ti ricordi più. Sì. E quindi potrebbero nascere delle complicanze del tipo... Il risultato potrebbe uscire diverso. Infatti adesso controllo se ho ragione. Sì. Da qui in poi praticamente, da questo livello, da questo cerchietto in poi, cominciamo a mettere i capelli in giù. Che il giro va verso l'interno. Trovo il mio centro. Li posiziono. Attacco prima al centro. Il centro per me è la fronte, no? Tutta la parte visibile. Non che il resto non è visibile, però qua davanti si dà maggiore attenzione. E qui comincio già ad alzare un po'. Andando sopra. Andando sopra. Andando sopra. Andando sopra. e vediamo che sono arrivata praticamente ad unirli benissimo pensavo di non arrivarci invece così meglio così posso vedete adesso bene si stanno questa parte sta schiacciando vedete sta schiacciando quelli che andavano in su e sta prendendo una forma perfetta adesso tutti questa striscia useremo sempre mettendola con dei giro che va in giù ok la ricciatura all'interno allora da dietro sempre un po distante continuiamo io devo iniziare nuova fila quindi non importa dove inizio un centimetro circa di distanza quando vado verso la faccia un po stringo e lo avvicino quasi del tutto lasciando semplicemente qualche millimetro lo avvicino alla fila precedente qui adesso non importa come vanno perché poi li sistemeremo sono andata proprio storta tagliando i capelli che raddrizzano tutto via l'eccesso adesso come vedete tutto perfetto un cerchio arrivo qua e taglio voilà un altro giro completato molto bene state andando stiamo andando benissimo ovviamente le sistemeremo dopo i capelli giusto per vedere che verso stanno prendendo ma vanno benissimo sempre rivolti ripeto sempre la stessa cosa rivolti verso l'interno qui no qui qui si ok la metto seduta così vedete distanzio un po uno dall'altro ma della stessa di circa 5 mm e continuo a chiudere vedete si quanto lascio così qui ormai non taglio più non vorrei tagliare ma mi fa tagliare perché qua mi gira qua mi girano i capelli quindi li devo tagliare per forza pazienza però finisco questa senza fermarmi qua continuo poi a girare se no con quest'ultimo pezzo che ci faccio vabbè finisco normale faccio quest'ultimo giro perché mi piacerebbe ultimo pezzo finirlo senza tagliare semplicemente gira 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 capito qui qui è rimasto questo questa monetina da chiudere e qui inizieremo da una parte che e andremo a spirale finché non finiremo al centro quindi prendo 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 questo che è più lunga controllo che sia uguale e questo sarà il mio ultimo pezzettino dove finirò non so se mi serve questo penso di no qui essendo il giro più 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 stretto devo fare i tratti più corti per riuscire a posizionare i capelli non posso più fare tratti tanto lunghi nel caso vi servisse un bastoncino o qualcosa per tenere premuto per tenere premuto i capelli prendetelo pure io a livello dimostrativo lo prendo anche io perché così potete magari non vi sporcate le mani di colla un bastoncino schiacciato continuiamo a girare cerchiamo di fare un bel cerchio se ce lo fate e proseguiamo in questo caso proseguiamo senza staccare più senza tagliare stiamo cominciando a stringere il cerchio il cerchio Grazie. Vedete, io continuo semplicemente a girare a spirale. Mi sta rimanendo un piccolo puntino qua da chiudere, infatti questo ultimo mi sa che mi servirà proprio per questo. Attacco quest'ultimo pezzetto, girando sempre e mi sia stretto ancora di più, mi è rimasto ancora la monettina, ancora più piccola. Prendo quest'ultimo pezzo, sistemo bene i capelli, in modo che non ci sia... Per voi magari è sempre tutt'una, quindi continuate a girarla sempre senza tagliare e basta. Nel caso mio io ho questi pezzettini, quindi ci metto un po' di colla, fisso primo punto e giro. Tolgo l'eccesso di colla. Altro po' di colla e faccio un altro piccolo passettino qua. Poi ormai sono passettini perché li dobbiamo mettere molto molto ravvicinati e cercare di chiudere bene il nostro cerchio facendo un bel lavoro. vedete? Sono arrivata al termine, giro l'ultima volta e chiudo tutto. taglio e sistemo. Vedete che bel cerchietto è uscito fuori? si vede solo una piccola cucitura e tutto il resto sta al posto. Allora, per oggi la pistola la possiamo anche staccare, ragazzi. Adesso vediamo cosa è uscito fuori. qua davanti li dobbiamo aprire i capelli, ma come vedete vanno già da soli bene. Sono veramente stupendi questi capelli, non c'è bisogno di lavorare, di arricciarli, di lasciarli. qua non fate una riga perché vanno da soli e così vi coprono i livelli di capelli. Non si vede niente. Lasciateli andare. Adesso c'è un po' di colla, casomai la togliete perché in mezzo ai capelli ci sono dei filamenti. Ve ne accorgete se passate le mani. Infatti vi si tirano dietro, vedete? Sono semplicemente filamenti di colla oppure i capelli quando li tagliavamo. Ecco, ora la bimba ha la sua parrucca. Dietro guardate che meraviglia pure, come le stanno bene. Molto molto belli. Anche qua con le mani, senza pettine, perché sennò ho paura che si arruffano. Con le mani togliete tutti i filamenti di colla, capelli, piano piano. Guardate che meraviglia che l'è uscita. Che bella chioma. Molto molto bella. Poi ovviamente la prossima volta le sistemiamo e tutto. Cioè la prossima volta sarebbe domani. E noi invece di non solo sistemiamo ma faremo anche le ali. Per oggi, cari ragazzi, cari bimbe, è tutto. Quindi vi saluto e vi auguro buona serata. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie.